Buongiorno ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere il canale lo può fare solamente gratis iscrivendosi e attivando la campanellina. Incominciano i primi attacchi dal lato bianconero dopo l'accenno della live di Calciopoli, dopo il video che ho passato di travaglio. Lo facciamo anche per le nuove generazioni. Le nuove generazioni devono sapere lo schifo e il marciume che è stato. Il calcio italiano che a mio avviso per colpa della Juventus ha perso molta credibilità all'estero, come abbiamo detto in live. Il calcio italiano si è impoverito grazie soprattutto alla Juventus per quello che successe Calciopoli. Quindi noi lo faremo anche per le nuove leve, gli faremo capire cos'è successo, a qualcuno rinfrescheremo le idee, a qualcuno che parla a mano dell'Inter. In questo momento se ci volete stare accanto lo potete fare gratis iscrivendovi al canale perché più siamo più forti siamo e meglio è. Cosa possiamo fare Giuse? Giuse cosa possiamo fare? Giuse se vengono a offendere andiamo a offenderli anche noi. No, non bisogna offendere nessuno. Se ci volete stare accanto iscrivetevi al canale, fate iscrivere i vostri amici interisti e quella la maniera giusta è pulita perché noi siamo puliti, a differenza di qualche di un altro. Per quello che riguarda il calcio mercato, questa politica giovane che sembra esserci dopo gli acquisti di Taremi e Zelischi, mi piace molto. Era questo che volevo io all'Inter, un progetto, sembra che stia tornando un progetto, si investe sui giovani. Questo Tesman del Venezia, come mi ha detto il ragazzo della chat degli esonerati di Palermo, mi ha detto l'ha visto nei playoff giocare contro il Palermo, Venezia-Palermo e sembra un giocatore fuori categoria per la Serie B. È troppo forte, io l'ho visto giocare solo tre volte, non lo conosco benissimo ma ho avuto delle buone impressioni. Facilità di calcio, fisico, un bel box-du-box, due piedi, un gran tiro, vede bene la porta. Non ha ancora 23 anni, sono questi gli acquisti da fare perché magari fa un anno buono, fatti due anni buoni, la Serie A poi magari fa un anno buono a titolare in Serie A per esempio e vale già 30-40 milioni. Ora devi intervenire. Su Bento si è arrivato tardi, Bento andava preso quest'inverno come lo stesso Zig Zee che qualcuno dava fatta all'Inter. Zig Zee ormai è imprendibile a quelle cifre. Zig Zee non lo puoi prendere più ormai a 40 milioni, lo dovevi prendere quest'inverno. come ho detto, idem Bento e idem tanti altri giocatori. Io volevo ricordare una cosa, io non faccio calciomercato senza offesa per nessuno, premetto questo, senza offesa per nessuno e senza critica per nessuno. Io vi volevo ricordare che l'Inter dal primo luglio ha meno 50 milioni di saldo in calciomercato perché servono soldi per pagare il mercato scorso, ovvero sia Frattesi, Augusto e Arnautovic. Mi sembra che Pavard sia stato pagato quasi tutto, non so se c'è anche Pavard, ma servono circa 50-60 milioni per ripagare il mercato scorso. Quindi l'Inter parte a meno 50-60 saldo calciomercato dal luglio. Deve fare delle operazioni pronta cassa, non deve fare delle operazioni per migliorare il bilancio, serve pronta cassa per fare mercato. Tra l'altro l'Inter come ha migliorato il bilancio? Apriamo una parentesi, l'Inter ha migliorato il bilancio con delle plusvalenze mastodonti e cosa fai? Ti metti ancora a vendere i giocatori per fare plusvalenze? Quindi il bilancio è migliorato perché sono stati venduti tanti giocatori, Onana su tutti per esempio. Per quello è un cane che poi alla fine si morde la coda. Non è facile migliorare l'Inter con i mezzi attuali, bisogna essere sinceri, bisogna dire le cose come le stanno. Secondo me, per come la vedo in questa fase di transizione, il fatto che l'Inter ora sia stabile a livello economico, che sia credibile per andare a parlare dello stadio, che tu abbia rinnovato a Lautaro con una cifra importante, il calciatore più pagato della Serie A insieme a Vlaovic, che tu abbia rinnovato a Barella, che stia rinnovando Inzaghi, che tu abbia tenuto la base forte della squadra. Per me è già tanta roba, per come eravamo messi. Fidatevi, lo sapete la conosciamo benissimo la situazione economica dell'Inter. Quindi se poi tra Correa, tra Carboni, che attenzione, lo sapete, io su Carboni feci un video un anno e mezzo fa, io non lo venderei mai Carboni, da quello che so io l'Inter ci punta molto, io non lo venderei, però qualora secondo me è, io non faccio il calciomercato, stai calmo, sto solamente dando una mia opinione, ma questa non è un'opinione, questo è sto per dire un dato di fatto, secondo me, qualora l'Inter poi riuscisse a fare 50-60 milioni di plus valenza, allora potresti fare un colpo da 35-40, altrimenti i colpi da 35-40 la vedo difficile, perché io che Zigzee a 40 milioni non sarebbe venuto all'Inter, che Buongiorno a 40-45 milioni non venga all'Inter, che Bento non sarebbe venuto all'Inter, l'ho già detto un mese fa, ma magari arrivassero questi giocatori, sono tutti forti, cioè la vedo difficile prima di fare plus valenza per 50-60 milioni di fare colpi da 35-40, la vedo molto difficile, ma io sono contento così, va bene così, già questo Tesman e Venezia, cioè sono questi i colpi giovani da fare, va bene, perché comunque l'Inter, ricordiamoci una cosa, ai nastri di partenza, parlo per il campionato, ai nastri di partenza, noi siamo avanti a tutti, avanti al Milan che ha cambiato allenatore, avanti alla Juve, siamo avanti a Napoli, c'è a Parrucca, ma Parrucca rischia di durare sei mesi a Napoli, siamo avanti a tutti noi, siamo noi i campioni d'Italia, siamo noi quelli che in Serie A abbiamo fatto un altro sport, perché quando, io l'ho detto anche quattro mesi fa, quando vedevi giocare l'Inter nel campionato italiano, sembrava che l'Inter facesse un altro sport rispetto alle altre squadre, quindi noi abbiamo un bel margine, da lì, da lì a dire, Giuseppe, non siamo strutturati per quattro o cinque competizioni, compreso il Mondiale per Club, che chi segue questo canale da tanto tempo lo sa, l'ho sempre definita una cosa molto particolare, il Mondiale per Club, infatti ci sono dei giocatori che si sono affidati a dei legali, perché non vogliono fare il Mondiale per Club, quello mi sembra un torneino per quelle tre o quattro squadre straricche, non per chi ha malapena a una rosa per due o tre competizioni, e infatti guardate cosa sta succedendo nel Mondiale per Club. In conclusione di video, lo so, lo so benissimo, Taremi, Taremi, io ho tanti dubbi, perché viene da un campionato che non è molto competitivo, è esploso a 30 anni, ha fatto una stagione bomba al porto l'anno scorso, malino, Zielischi, Zielischi, se si riprende fisicamente è un bel giocatore, anche se era stato messo fuori dalla lista Champions, comunque Zielischi sa giocare a calcio, può farci comodo. Su Taremi ho qualche dubbio, spero di sbagliarmi, però mancano due pezzi, bisogna cercare di prenderli, un centrale difensivo, in quanto è che lo dico, lo diciamo, e un bomber. Mancano due giocatori, secondo me già con due giocatori puoi già fare un contorno di due o tre giovani, tipo Tessman e qualche di un altro, capisci che ti voglio dire? E perché dico questo? Perché ragazzi, l'anno scorso, quando il buon De Vrij ha sostituito a Shelby, cioè ha influito nel pareggio contro la Juve, se vi ricordate, De Vrij, nell'uscita in Champions, dove ha fatto tante cappellate, nella stessa Coppa Italia contro il Bologna. La coppia d'oro, Lautaro, Martinez e Turam, ragazzi, hanno saltato, mi sembra, i due hanno saltato circa 6-7 partite, ma quando sono mancati i loro due si è sentito, perché abbiamo pagato audazio sia in Coppa Italia che in Champions League, quindi di cosa stiamo ragionandovi? Però io sono fiducioso, torno a vedere un progetto, ritorno a vedere il sereno, cioè siamo stabili a livello finanziario, siamo tranquilli, siamo salvi, vediamo quello che i dirigenti riescono a fare, perché questi dirigenti hanno già dimostrato di saper moltiplicare i panni e i pesci. Ciao Inter!